ciao a tutti ragazzi ora giochiamo a stumble guys questo è bellissimo gioco che credo che sia la prima volta non mi ricordo se la seconda non mi ricordo comunque questo gioco si chiama stumble guys molti di voi lo conosceranno e oggi giocheremo allora raga entriamo personaggi e io sceglierei allora facciamo mi ricordo di iscrivervi al canale mettere like e condividere il video con i vostri amici e e e e e e e e e Grazie a tutti. Ehi, qualificati. Questo è appena il primo round e poi vengono eliminati, non ricordo quanti, però 16 si possono qualificare al primo livello. Nel secondo livello si possono qualificare 8 credo, sì 8, 8 possono qualificarsi e alla finale 1. Quindi, parliamo di una partita, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Adesso 8 di loro. 8 saranno eliminati e 8 saranno qualificati. Eh sì. Ok. No, questo mappo no. No, no. Ok. 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 Adesso facciamo un'altra partita. facciamo un'altra partita. Ok. 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 e 16 eliminati ok no no l'abbiamo appena fatta l'abbiamo appena giocata però questa volta non è in finale c'è una cosa è una cosa non è l'abbiamo appena una di eric rive eric e l'abbiamo no 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 ah ah si qualificato mamma mia che paura che avevo ok ragazzi adesso si fa il finale secondo me o il laser oppure il scivolo d'acqua tra questi due oppure anche in quello dove si sa a me il finale mi piace quello del laser no, ci stanno qui no, ma non avolo no ma che ora no, ma che è che un anno va bene siamo arrivati sempre al solidelli va bene adesso riscuotiamo la ricompensa vediamo che personaggio ci verrà dato dai almeno è epico non si muove vabbè dai ok dai meglio di niente abbiamo otto normali quanti sei non comuni tre rari e due epici io vorrei avere uno di questo epico è un epico ed è proprio ecco il bellone costano leone come sta dai sono così ok adesso adesso facciamo un'altra partita hanno dovuto cambiare personaggi che cambiamo un personaggio prendiamo messi dai io un pezzi perché pessimo ma in verità a me non piace messa me piace di più vediamo cosa ci uscirà ok vediamo con un'altra partita 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 ok adesso vediamo quale mappa altra ci uscirà ok adesso cerchi da questa mappa che tipo se vai in quello sbagliato oh no è stato operato oh 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 il Nooo, eliminati! Nooo, sono eliminati, nooo, dai, ma non si capiva, cioè, stavo seguendo, vabbè, cioè dopo ti dispingi io, allora, allora, resta pubblicità. Ok, vabbè dai, facciamolo. Ok, dovrebbe essere uscita. Ok, abbiamo 500 trofei, vabbè. Con voi in questo canale proviamo ad arrivare al maggior numero di coppia in questo gioco. Proprio, arriviamo ai 10.000. Ok, va bene, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like e se volete altre shorts scrivete qua sotto nei commenti e scrivete anche quale shorts di quale argomento volete che vi faccia. Niente, buone vacanze, ciao! Ciao!